Wunderkammer significa Camera delle Meraviglie e il conventino è una Camera delle Meraviglie a tutti gli effetti, un chiostro spettacolare, tra l'altro l'acustica è molto bella e lo proviamo con diverse formazioni, dalle più piccole, dalla chitarra classica sola, al pianoforte solo che ha un volume diverso, fino al trio, fino al duo, al quintetto e fino a una specie di orchestra liofilizzata che è il progetto dell'ensemble giovanile della Wunderkammer Orchestra, diretto da Ivan Gambini alla fine della stagione. Il trio Gustav, che è un trio blasonatissimo, che aprirà la stagione la prossima settimana, il 25 di giugno, con un programma di Filip Sharvenka, che è un compositore di cui è in corso l'Ari Scoperto, un compositore geniale e per questi strani paradossi alla storia della musica ingiustamente dimenticato. Poi abbiamo Maddalena De Biasi con Lorenzo Antinori, entrambi molto giovani e già affermati, che faranno un programma dedicato alla musica vocale di Handel, quindi lo abbiamo intitolato Handel all'opera, non sono tutte arie d'opera, ma in senso proprio di Handel al lavoro. Poi abbiamo Giacomo Palazzesi, chitarra classica, un chitarrista strepitoso, raffinatissimo, con un suono che sta quasi diventando un suono di riferimento nei suoi dischi, che presenterà il suo ultimo lavoro ed offre un programma che spazia dalla musica di Bach fino alla musica di due autori del Novecento, Henze e Takemitsu, quindi con delle atmosfere, a parte di grandissima difficoltà esecutiva, ma anche con delle atmosfere particolarmente accattivanti e emozionanti come quelle di Takemitsu. E poi abbiamo il sottoscritto, del quale ti prego di non farmi nessuna domanda su che cosa suonerò, dico solo che farò la quinta sinfonia di Beethoven al pianoforte nella trascrizione di Liszt. Poi abbiamo come ultimo appuntamento l'ensemble giovanile della Wunderkammer, diretto da Ivan Gambini, che è un musicista che con noi ha lavorato molto, che molti conoscono, ma è non solo un percussionista, ma è un musicista a 360 gradi. E finalmente lo possiamo ascoltare come direttore d'orchestra.